24 ore di notizie, approfondimenti, inchieste. Ora Rai News 24 rinnova la sua immagine visiva con una veste grafica aggiornata e uno studio ideato dal grande architetto Renzo Piano. Legno e specchi per disegnare un nuovo concetto di spazio dell'informazione, più caldo e inclusivo. Benvenuti nello studio di Rai News 24. Bentrovati nella nostra nuova casa. Rai News 24. L'informazione cambia passo.